Qui abbiamo due delle migliori console Android sulla fascia di 200€ Lambernicar G556 e Retroid Pocket 4 Pro Entrambe sono fantastiche Quale sarà la migliore? Qual è la scelta giusta per voi? Scopriamolo insieme Sono rimasto indeciso fino all'ultimo se portarvi due recensioni singole di queste console o fare questo video confronto Alla fine ha vinto il video confronto perché sono estremamente simili sotto tantissimi punti di vista e che tra i due video mi avreste sempre fatto ma meglio questo o meglio l'altra Quindi vi do le mie opinioni su entrambi in questo video Facciamo un mega confrontone e poi trarete voi le conclusioni Le console sono fuori dalla scatola che le sto già utilizzando da un bel po' Qua a sinistra Lambernic RG556 e qua a destra Retroid Pocket 4 Pro Colorazione nera per questa Lambernic Ci sono anche colorazioni diverse con il case trasparente Ma nonostante io sia un fan dei case trasparenti In questa versione l'ho preferita nera perché ha i led attorno agli analogici E con le versioni trasparente dà parecchio fastidio per i miei gusti Mentre in questa Retroid anche qua disponibile in tantissimi colori C'era questo rosso trasparente che mi piaceva tantissimo Motivo della scelta Per quanto riguarda l'esperienza di unboxing siamo praticamente allo stesso livello Scatola di cartone dove c'era all'interno la console con la loro protezione Manualistica con qualche indicazione di scorciatoio di tastiera Qua avevamo la SD contenente i giochi in questa versione Cavo Type-C, vetro protettivo e il kit per pulire lo schermo prima dell'installazione Stessa cosa nella Retroid scatolina leggermente diversa Forse è un pelo più curata ma il contenuto interno è il medesimo Stesse identiche cose, vetrini, protezione manualistica e cavo Anzi qui mancano i pannetti per pulire lo schermo Se io non li ho persi ma comunque piccolizze A primo impatto la differenza grossa è sicuramente sulla dimensione esterna Anche se a livello di schermo non abbiamo tutta questa differenza di dimensioni 5 pollici e mezzo per questa Ambernic 4.7 per la Retroid Ma voglio partire subito parlando di qualità costruttiva Perché appunto è molto importante E che a volte è difficile da trasmettere vedendo le immagini di un prodotto E qua c'è secondo me una bella differenza di qualità costruttiva Parto dalle plastiche È una cosa che magari non sempre si nota o a cui ci fa attenzione Potete vedere quanto questa plastica trattenga le ditate È completamente liscia E sulle mani dà una sensazione di un feeling proprio molto cheap, scivoloso Non è una bella plastica Questa della Retroid invece è estremamente curata Ha un feeling più ruvido E aiuta tanto anche nel gioco Ad avere una sensazione proprio sotto le dita diversa Così come tutta la qualità costruttiva legata ai tasti Questi qua del Ambernic sono tutti completamente lisci Per quanto riguarda i grilletti Qua abbiamo tutta una texture sui tasti Che dà proprio un grip maggiore Tutte queste sono cure estetiche nell'assemblaggio Che ne differenziano tanto la sensazione sotto le dita Qualità costruttiva che si va a ripercuotere anche sui controlli Stranamente Ambernic a me è sempre piaciuta Ha fatto sempre console con dei controlli straordinari Ad esempio questa 405M A me a livello di controlli piace tantissimo Qui abbiamo un approccio completamente diverso Perché finalmente Ambernic sviluppa i grilletti Uno sotto l'altro con tanto di corsa Corsa che ha un feeling bellissimo Soprattutto l'eo di resistenza ricorda molto i grilletti dell'Xbox Quindi dà proprio una bella sensazione Anche soprattutto per giocare a quei titoli in streaming Cosa che invece per quanto riguarda Retroid Ha molta meno resistenza Il tasto scende subito Però in generale nonostante i tasti abbiano un buon feeling Trovo questi analogici strani Anche rispetto alla 405 Nonostante sia una console più grande Hanno una corsa piccolissima Quelli della Retroid invece hanno un feeling straordinario Così come il D-Pad qua va molto a preferenze Questo della Retroid è molto più clicky Fa tanto click quando si utilizza Questo è una grande membrana Quindi è proprio una sensazione sotto le dita completamente diversa E mi dispiace per l'Ambernic Ma in questo caso io preferisco di gran lunga I controlli della Retroid Salvo alcuni dettagli tipo i grilletti superiori L1 ed R1 Questi qua dell'Ambernic funzionano e cliccano bene in tutte le posizioni Mentre questi della Retroid funzionano molto bene Per buona parte del percorso Ma poi nella parte finale ogni tanto il click non prende benissimo E quindi su questa parte forse Anbernic ha fatto meglio E anche in realtà sulla disposizione degli analogici Perché sui FPS questa disposizione è più scomoda Scuola Xbox Io sono un fan dell'analogico in alto Mi trovo molto meglio Molto più a mio agio con questa configurazione Terminiamo questa prima parte con quello che riguarda le uscite Jack 3.5, cavo Type-C, ingresso microSD Come uniche porte Uscita Type-C che fa anche da output video Se utilizzate un dongle con l'adattatore per un HDMI Con l'uscita 1080p Mentre il Retroid propone il jack 3.5, cavo Type-C, ingresso microSD E qua in alto abbiamo l'uscita con il micro HDMI Non è una grossa differenza Qui potete tranquillamente uscire video e caricarla O collegare un joystick col cavo senza aver bisogno di un dongle Come invece avete per forza bisogno di un dongle Lo schermo di questa 5.5.6 è davvero una cosa spettacolare Siamo tranquillamente a livello forse di uno dei migliori schermi Per consoline che abbia mai visto Ma anche parlando di Steam Deck O console più grandi Windows Questo display è davvero uno spettacolo Non che questo della Retroid sia meno Però davvero non c'è paragone in termini di brillantezza dei colori L'AMOLED dà una spinta in più Ma a prescindere dalla tecnologia è proprio un bel display Nonostante questa Retroid non abbia un brutto display Ha dei bei colori Vi ho scelto Baseball Star 2, un titolo della Neo Geo Perché ha dei colori sparati che fanno molto bene a questo AMOLED Anche la Retroid se la cava bene Ha un bel display Ma è innegabile ragazzi che questo AMOLED è tantissima roba Tra l'altro il mio dubbio Io ho sempre amato i display 4 terzi Perché rispetta molto di più le proporzioni nei videogiochi Quindi non dovete vedere bande nere, strecciare l'immagine Fare un po' di compromessi per riempire lo schermo In realtà con questo AMOLED avendo i neri spenti Non dà assolutamente fastidio Perché non si nota lo stacco tra il bordo e il display Cosa invece che con l'LCD ovviamente si nota molto, molto di più E questo rende questo display in realtà tanta roba Non mi aspettavo di trovarmi così tanto bene A giocare a titoli arcade Proprio per queste bande qui In realtà ragazzi vi dico la verità È un piacere Tra l'altro prima vi ho criticato molto gli analogici Comunque diciamo che sono un limite Più che altro per quel che riguarda Giochi un po' più moderni Su giochi arcade non dà fastidio avere una corsa così piccola Però immaginate uno sparatutto, un COD Avere così poco range sull'analogico Li può dar fastidio Per dover di cronaca nonostante questo display vinca 10 a 0 Anche questo qua della Retroid ha un ottimo angolo di visione Non paragonabili a questo AMOLED che è praticamente perfetto Si vede perfettamente ad ogni angolo E cosa più interessante secondo me Si comporta molto bene Anche a luminosità minima I colori rimangono belli accesi Mentre a luminosità minima questo LCD tende un pochino a spegnere di più i colori Penso che dalla videocamera si veda molto molto poco Però dal vivo vi posso garantire quando giocate al buio a luce bassa Questo display è tanta tanta roba Vi ricordo che se vi piacciono queste console o avete bisogno di aiuto Volete solo entrare in un gruppo con tanti appassionati Ho aperto un gruppo Facebook che si chiama Ambernic Italia Parliamo di console in generale Non solo di Ambernic O comunque del mondo dell'emulazione a 360 gradi Se volete entrate lì Vi fa piacerissimo Potete parlare tranquillamente nei commenti O scrivere commenti anche qua sotto su YouTube Però nel gruppo è più facile dare assistenza Perché possiamo postare anche immagini È un po' più facile Un altro punto che comincia il display Con il prossimo punto che è l'esperienza di emulazione È la possibilità data da questi processori Di giocare a titoli come quelli della PSP Mettendo uno scaling per 4 Quindi andando a moltiplicare la risoluzione inattiva della PSP 4 volte Arrivando proprio al Full HD Che è la risoluzione di questo monitor E in questo modo i titoli PSP Questo Tekken 6 gira in 4x60 fps Molto molto stabili Poi magari a volte avete qualche piccolissimo calo In qualche azione In caso comunque potete regolare qualche roba Però state giocando con un titolo PSP Che ha una grafica in questo modo Stupendo, super dettagliato Stessa cosa si può fare tranquillamente Sulla Retroid Sempre in 4x1080 Ma avete un display 720p praticamente Quindi è anche forse troppo Nonostante avete più potenza su questa versione Non vi serve praticamente E con questo titolo di lotta Vi dico anche che Continuo a preferire effettivamente Questo D-Pad Rispetto a questo della Retroid Parlando di esperienze di emulazione Abbiamo su entrambe le console Praticamente il massimo Che ad oggi si può avere su questa fascia di prezzo Per quanto riguarda L'esperienza di emulazione Arriviamo tranquillamente Ad emulare la Play 2 Non tutti i giochi al 100% Alcuni di più Alcuni di meno Però abbiamo una buona Livello di emulazione E ad esempio Qui abbiamo Shadow of the Colossus Un titolo che di solito In tutte le console che provo Non riesce a girare È talmente laggoso Che è praticamente ingiocabile Qui Arriviamo a giocarlo Non è appunto un'esperienza perfetta Perché abbiamo questi 30 fps Che ogni tanto In alcune situazioni Risultano un pochino ballerini Come esperienza Qua è scelto praticamente tutto stock OpenGL Anziché Vulkan Nelle configurazioni Perché stranamente Vulkan gira peggio E l'altra cosa Che ho dovuto mettere Qua sull'Ambernic Per questo gioco Poi dipende un po' dal titolo Alcuni giraranno perfetti Alcuni avrete qualche problema in più Dovrete scendere a qualche compromesso Un underclocking del 50% Sul cycle rate È l'unica cosa Che ho dovuto mettere Cosa che invece qua Ho evitato Ho 1 per OpenGL E 100% Gira un po' meglio Appunto perché abbiamo Questo piccolo boost di prestazioni In più Boost di prestazioni Che su questi titoli Leggermente più pesanti Lo fanno risultare Un pochino meglio Per questi titoli Però siamo proprio Diciamo Al limite Con le performance Sono entrambe impostate Ad alta performance Con le impostazioni Abbiamo una ventolina Per entrambe Qua sul retro Qua in alto Ma non si sente Sono molto Molto silenziose Non dà un fastidio Ci sono praticamente Al massimo Perché anche andando su Di processore Non è che le prestazioni Migliorino più di tanto Siamo a dei limiti Software Legati alla qualità Degli emulatori Ether SX Non è così tanto Ottimizzato Come emulatore Così come emulatori Per il 3DS Per la Switch Per la Wii Dipende tutto molto Dal titolo Più che altro Proprio per limiti Degli emulatori Sulla parte Nintendo Sappiamo Che ormai Nintendo Sta facendo lotta Tutti gli emulatori Ha buttato fuori Dallo store Tutti gli emulatori Della Switch E quindi Non ci possiamo aspettare Tantissimo sviluppo Da parte Delle persone Che lavorano Su questi emulatori Alcuni titoli Giranno bene Super Mario 3D Gira abbastanza bene Ad esempio Poi dipende Molto anche qua Dall'azione Che state facendo Ogni tanto Dei cali Di FPS Purtroppo ci sono Poi magari Se giocate a titoli Meno frenetici Come può essere Un Pokémon Allora a quel punto Anche questi piccoli Cali di framerate Non vi danno Assolutamente fastidio Riuscite a giocare Benissimo Su emulatori Per la 3DS O sta cosa Anche per Quello che riguarda La Wii Per la Switch Praticamente No La parte di emulazione È ancora Messa male Su Android Le prestazioni Richiedono Molta Più potenza Quindi al momento Non ne vale la pena Il discorso L'ho fatto vedere Lambernic Ma la Retroid È praticamente identica Ha solo quel Boost leggero Di prestazioni In più Dovuto a un processore Migliore Ma siamo Nell'ordine di pochi FPS in più Su alcuni titoli Magari c'è qualche titolo Che questa qui fa un pochino Più fatica E questa riesce a generare meglio Ma non è un'esperienza Dove qui va benissimo E qui è perfetto È proprio un leggerissimo boost Vi ho parlato Vi ho parlato delle console Più pesanti Perché secondo me È la roba più interessante Già Praticamente Con la 405M Avevamo un'esperienza Pressoché perfetta Di tutti Gli emulatori Che trovavamo Dentro Tranne la Play 2 Dove andavano pochissimi titoli Qua Abbiamo questo step in più Play 2 gira molto meglio Tutto quello che si è prima Praticamente gira Perfetto Con Salvo Giusto Magari Gamecube Qualche titolo particolare Che non gira Perfetto al 100% Però in generale Abbiamo un'esperienza Di emulazione Che fino alla Play 2 È completa Vi divertirete Tantissimo Altro punto interessante Dove Lambernic Ha una spinta in più Data dal 1080 È utilizzare la console Come Dispositivo di streaming Dal computer Potete utilizzare Steam dal PC Installare Steam Link Sulla console E giocare direttamente Utilizzando L'hardware del vostro PC In quel caso Il display 1080 Aiuta molto È molto figo Rispetto A questo display Un pochino più piccolo Così come I giochi Android Se giocate ai giochi Android Avere uno schermo 1080 Che è più simile A quello di un telefono Di qualche anno fa È tanta tanta roba Anche se su alcuni giochi Avete bisogno poi Di mappare i tasti Perché non prendono direttamente Il controller Ad esempio Code Tutto il discorso Che vi ho fatto Quando vi ho portato Il Galileo G8 Con la video recensione Di qualche mese fa Magari Ve la lascio a fine video E c'è più un discorso Sui giochi Android Su queste console C'è da fare una precisazione Sui giochi Come sempre Le Ambernick Se voi scegliete Le versioni con La schedina Da 64 128 256 Giga Arrivano già Con Dei giochi Gli emulatori configurati Quindi teoricamente Teoricamente accendete E potete giocare Questo con tutti i limiti Che vi ho sempre detto In tutti gli altri video Quindi giochi Che per la maggior parte Non sono in italiano Molti sono solo in cinese La maggior parte È in inglese Tutto il ROM set Non è bellissimo Nel senso che Ha tantissimi titoli Sì ma molti sono duplicati Non è gestito bene Le icone delle ROM Sono disponibili Solo per i primi titoli Poi spariscono Quindi Arriva già Un po' Parzialmente configurata Però poi dovreste Metterci voi mano Per scegliere i giochi Che volete Cancellare la miriade Di giochi inutili Che ci sono Il Retroid Ha la filosofia diversa Non ha Una schedina dei giochi Venduta insieme Arriva con 128 giga Di memoria interna L'Sd Potete prenderla voi a parte Ma dovete tutta configurarvela Ha un launcher Che comunque Aiuta molto E sarà già Tutti gli emulatori Quando provate a far partire Un gioco Da solo un launcher Che richiede Magari una configurazione Di retroarch Vi dice proprio Qual è Il core Che dovete andare a scaricare È un'esperienza Un'esperienza guidata Ma comunque È tutta da configurare Questo per me In realtà Non è Un malus Tra le due Questa è più facile Per chi parte da zero Perché vi dà già Un punto di partenza Avanti Qua dovete farvi Le configurazioni da voi Però avrete sicuramente Una console configurata Perfettamente Cosa potete fare anche qui Partite da un punto Più avanti Diciamo Sono filosofie diverse C'è da dire Dal punto di vista legale Lei ha ragione Perché le ROM Non potrebbero essere Vendute con un sovrapprezzo Come avviene Nella Lambernic Però lì Siamo legge italiane Legge europee Cina Sia Discorsi che non vogliamo Affrontare qui Parte degli speaker Che per entrambe le console Sono posti qua in basso Situazione un po' strana Perché soprattutto sull'Ambernic Un po' di spazio Per avere gli speaker frontali C'era E diciamo Qua in basso Sull'Ambernic Non è un problema Perché l'impugnatura L'ergonomia della console Vi permette di evitare Di tapparli Sulla Retroid Un pochino più scomodi Perché almeno Per come gioco io Con i mignolini qua sotto Di solito Un pochino di tappo Volume Altissimo Per entrambe le console Ma davvero tanto alto Con Con per me Come vincitrice L'Ambernic Perché Ha Un volume Leggermente più alto Comunque sono abbastanza In linea Come livello di volume Però è molto più chiaro Più cristallino Come suono Questo della Retroid È un po' più ovattato Questo insieme Al fatto appunto Della posizione Degli speaker Dove quali tappo Insomma A livello di esperienza Di immersività Sul suono L'Ambernic In questo caso vince Un altro punto Secondo me Molto importante Riguarda Quello che è Il software Entrambe le console Offrono il loro Lancer Con tutti gli emulatori Chi è configurato A chi no Qual è la differenza Fondamentale Secondo me La Retroid Ha un software Molto più curato Per quanto riguarda Soprattutto i tool esterni E anche un pochino Per quel che riguarda Gli aggiornamenti E il supporto Da casa madre C'è da dire che Ambernic tira fuori 35.000 console Ed è difficile Avere tutte aggiornate Tutte sempre In linea Ed è più facile Avere qualche baghettino Qualche tool Un pochino Più impreciso Ad esempio Una cosa mi viene in mente Questo è un gioco Android Che richiede Il key mapping Quindi la possibilità Di utilizzare I tasti Della console Per giocare I tasti a schermo Come dobbiamo fare Sull'Ambernic Qua in alto Abbiamo Il key mapper Che si potrebbe attivare Cliccando E non funziona Tenendolo premuto Si attiva La schermata Per rimappare i tasti Noi qua abbiamo tutti i tasti A schermo Possiamo spostarli Andarle a posizionare Sopra i tasti virtuali Salvare la configurazione Salvo E teoricamente Dove andare Ma non va Non va perché È disattivato Però non mi si attiva Per attivarlo Qua c'è il tasto switch Che è l'on off Infatti se andiamo a controllare Adesso è attivo E in questo modo Inizia a funzionare E poi non lo posso Neanche spegnere da qua C'è l'unico modo Da tenere premuto Farlo uscire a schermo Usare questo switch qua Sono piccolezze Molto piccole Tra l'altro Vi segnalo Che c'è anche un bug Al momento Se cambiate la lingua Impostate La lingua italiana Lingua che riguarda Proprio il sistema di android Quindi vi traduce Tutta l'interfaccia In questo caso Se tenete premuto Per far comparire L'app Crascia direttamente Quindi non è possibile Utilizzarla Se avete la lingua Italiana Queste sono tutte piccolezze Però Intanto Qua dobbiamo tirar giù la tendina Retroid Ha il suo pannellino a destra Con tutte le caratteristiche Il framerate del gioco In questo momento Qua avete il key mapper Key mapper Molto più semplice Molto più minimale Fatto meglio Scegliete direttamente Un tasto generico Poi premete il tasto L'associate Lì invece Avete già tutti i tasti a schermo Sono piccolezze Non vi sono neanche a dire Che qua funziona immediatamente Non vi dovete inventare Robbe strane Rimangono comunque sempre a schermo Super piccoline Ma vi fanno capire che è attivo Mentre qua Non si capisce Sono tante piccole cose Che fanno la differenza Nel lungo periodo Su quanto riguarda il supporto C'è da dire Discorso anche Custom ROM È facile che per entrambi Escono custom ROM C'è il supporto della community Comunque per tanti sviluppi È un punto importante Da tenere in considerazione All'inizio Ma dipende un po' voi Per quanto volete tenere le console Che cosa volete farci Quindi dovete considerare questi punti Un punto importantissimo Che non abbiamo discusso Parlando di qualità costruttiva È legato all'ergonomia E portabilità È innegabile Questa forma diversa Ha un vantaggio E uno svantaggio Per entrambe le console La Retroid è molto più portabile È grande Però si riesce ancora A mettere in tasca Perché non è bombata Sul retro La Mbernic no È impossibile Da mettersi in tasca Dovete portarvela In una custodietta Ve la portate nello zaino Però questo grip È comodissimo Qua ci fate sessioni Di otto ore di gioco E non vi stanca Perché ha un'ergonomia Praticamente perfetta È comodissima In mano La Retroid no La Retroid è un po' più scomoda Con questa forma Ci giocate tranquillamente Comunque su un console leggere Però dopo l'oretta E due ore Vi stancate È tutto legato Anche qua Alla vostra esigenza Diciamo che lei È più portabile Però è comunque grossa Quindi non è super portabile Ma sacrifica tanto Ma sacrifica tanto Dell'ergonomia La si può risolvere Con dei grip Che praticamente La trasformano Esattamente come questa Mbernic a livello Di ergonomia Però è una cosa in più Da acquistare Oltre al fatto Che già di prezzo Ha un prezzo più alto Ora Prezzi di partenza Prezzi Dipende un po' dai coupon Vi lascio tutto Qua giù In descrizione Diciamo che Qua abbiamo la fascia Dei 200 euro Spaccati Si trova a 200 205 A volte con le varie offerte Senza schedine Si trova anche A meno La trovate magari A 170 180 Con i coupon Adesso il 12 giugno C'è Il festival di Geekbuying Dove sconteranno Un sacco di cose Quindi magari Si trova ancora meno Lei 230 240 Costa quei 30 euro in più Giustificati Parzialmente Dalla maggior potenza E da una qualità Costitutiva più alta Però con tutti questi Pro e contro Che vi ho elencato oggi Quindi fatemi sapere Qua giù nei commenti Quale Per voi La vostra console preferita Io sono molto in dubbio Per me il mix perfetto Sarebbe un ibrido Tra le due Praticamente tutto quello Che abbiamo qui Con il software E la qualità costruttiva Di questa Retroid Magari con anche i controlli Sarebbe La scelta perfetta Però Ognuna dei due È sensata In base alla vostra esigenza Non c'è Secondo me Quella che vince Spacca tutto E l'altra Dovete buttarla Su due ottime Ottime console Come vi accennavo prima Per approfondire il discorso Di emulare E giocare su Android Vi lascio All'ultimo video Che ho fatto Dove Usavo il Galileo G8 Un supporto per smartphone Così anche da rispondere Alla domanda Ma è meglio Una console dedicata O uno smartphone Per giocare Con questi emulatori E l'altro video Che vi voglio consigliare È quello Sul Lambernic RG405M Versione in metallo Molto più piccola Molto più portabile Con un display 4 pollici Di se cercate La massima portabilità E se non vi interessa Troppo emulare La Play 2 Ma siete più Su titoli Leggermente inferiori Quella è ancora Un'ottima console Super portabile Molto bella Ve la consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti